Ancora ben trovati dalla redazione di Florence Multimedia in studio Agnese Fedeli. Cominciamo dall'autostrada sulla 1 rallentamenti e code per traffico nei due sensi di marcia tra Carenzano e BV1 variante, più a sud rallentamenti tra Firenze e Sud e in Cidereggello in direzione di Roma. In FIPILI per lavori code quantificate in un chilometro tra Empoli e Ginestra verso Firenze e in carreggiata opposta tra Ginestra e Monterupo. Ricordiamo che si tratta di lavori per il miglioramento della sicurezza con restringimenti, percorsi alternativi sulla SP12 o per i tragitti più lunghi sull'autostrada 11. Prima di salutarci per il traffico navale segnaliamo che per avverse condizioni meteo è stato cancellato il traghetto delle 11.10 Piombino-Cavo-Porto-Ferraio. Per il traffico ferroviario per un gasto temporale agli impianti di circolazione tra Sarzana e Carrara-Avenza il regionale 2299 ha maturato un ritardo di 15 minuti. Muoversi in Toscana-Infio è un servizio in collaborazione con Regione Toscana, Città metropolitana di Firenze e Comune di Firenze. Per ora è tutto, buon viaggio!